Musica Volge al termine il primo capitolo della più importante e per adesso la più discussa manifestazione che si svolge a Oristano, la Sartiglia. La Procura della Repubblica di Oristano ha concluso l'inchiesta per oltraggio a pubblico ufficiale, aperta ai primi giorni di marzo scorso nei confronti di un cavaliere della Giostra Equestre, accusato di aver offeso il questore uscente Giovanni Aliquò. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, il Sartigliante, indispetito per l'invadenza dei controlli antidoping che stavano rallentando la manifestazione, avrebbe rivolto al questore in luogo pubblico e alla presenza di più persone parole offensive, che poi sono finite nei rapporti inviati dalla Polizia alla Procura. Altri cinque cavalieri sono accusati di interruzione di pubblico servizio per aver ostacolato i controlli antidoping eseguiti al termine delle pariglie di martedì 13. A cui si aggiungono gli altri nove, accusati invece di sostituzione di persona in occasione dei controlli disposti dalla Questura. In caso di rinvia a giudizio di condanna, il cavaliere rischia fino a tre anni di reclusione. Questa mattina sono iniziati in via dritta a Oristano i lavori per l'eliminazione dei cattivi odori che fuoriescono dai tombini, soprattutto da quelli nell'ultimo tratto della via verso Piazza Roma. Li ha programmati l'assessorato comunale ai lavori pubblici per mettere fine ad una condizione di disagio che durava da molti anni. Questa mattina l'assessore Riccardo Meli ha effettuato un sopraluogo per verificare la corretta esecuzione dei lavori. La soluzione è semplice, dichiara in un comunicato l'assessore. Si tratta di sistemare dei sifoni che riempiti d'acqua impediranno la fuoriuscita degli odori. Gli operai stanno intervenendo per sistemare sifoni e griglie di una quindicina di tombini della via. Attraverso l'Oristano Servizi sarà garantita la loro costante manutenzione. Dovrebbe essere un rimedio efficace per porre fine ad un problema ben noto ai residenti e agli operatori commerciali presenti nella via e tanti oristanesi che quotidianamente transitano nel cuore della città, conclude Meli. Tra qualche giorno verificheremo i risultati ma pensiamo che finalmente il problema possa essere risolto definitivamente. Il Partito Democratico si conferma sempre più maschilista sia a livello regionale che nazionale nonostante la ventata di femminilità portate, ad esempio, dalle ministre Boschi e Madia. Poi il nulla o quasi con la Serracchiani in affanno anche per le vicende della sua regione il Trentino, nella quale era presidente. In Sardegna musica e metodo non cambiano ed ora si attende la nuova riunione dell'Assemblea regionale per capire chi sarà il nuovo segretario. Si è resa disponibile una giovane donna, Dolores Lai, un recente passato da assessore alla cultura nel comune di Sassari e attualmente ricompresa nello staff del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganao. Dolores Lai, pur non appartenente ad alcuno degli schieramenti interni, ha raccolto le simpatie della componente che fa capo a Renato Suru e questo finirà per sbarrargli la strada, considerato che il patron di Tiscali è in minoranza. Vittime sacrificali, quindi, inascoltate e sopportate. Chi non ricorda la fase della presidenza del PD di Valentina Sanna, biondina e graziosa, inseguita da fotografi e telecamere, poi nel 2014 getta la spugna, si dimette dall'incarico ed esce da un partito nel quale, scriveva allora, non è più possibile militare e a proda nel tormentato mondo dei movimenti indipendentisti. Ed è questo anche il periodo di Francesca Barraccio, spigliata e aggressiva. Inizia come sindaco di Sorgono, poi in Consiglio regionale per due legislature, entra nel Parlamento europeo, dal quale si dimette, per essere nominata sottosegretario alla cultura del governo Renzi. Vince anche le primarie del centro-sinistra per la presidenza della regione, ma le viene chiesto un passo indietro per via dell'inchiesta sull'utilizzo dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale, che gli costa anche l'incarico di viceministro e la carriera politica. Difondere l'utilizzo delle auto ibride è uno dei passi fondamentali per combattere la riduzione delle emissioni inquinanti. Il mondo moderno necessita di un passaggio ad una mobilità totalmente elettrica. Questo sarà necessario sia per il trasporto privato che per quello pubblico. Questa consapevolezza sembra essere giunta da tempo anche ai più alti livelli politici. Cinque anni di esenzione dal bollo per le auto con l'alimentazione elettrica e tre per quelle ibride e al GPL. Lo prevede una proposta di legge presentata in Consiglio regionale dal gruppo dei riformatori sardi Attilio Dedoni per rispondere ad alcune domande presenti nella società sarda, il rispetto dell'ambiente e in generale la promozione dell'economia sostenibile. Nell'isola circolano oltre un milione di autoveicoli e nel 2017 ci sono state 28.000 nuove immatricolazioni, ma solo 134 per veicoli ibridi e appena 13 per gli elettrici. Ciò vuol dire che c'è un mercato da spingere ed è giusto farlo utilizzando anche incentivi fiscali. Per la prossima stagione estiva a Torre Grande sarà attivato il servizio di salvamento a mare garantito dal comune di Oristano grazie ad un finanziamento del bilancio comunale di 35.000 euro. Fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 19, nelle tre postazioni allestite in spiaggia, una sul lato destro della torre, una sul lato sinistro e una all'altezza del primo pontile, Il servizio sarà assicurato da sei assistenti bagnanti, due operatori per postazione, uno in torretta per l'avvistamento e uno a terra per il pronto intervento. È un servizio essenziale per salvare vite umane, ma anche per offrire supporto e assistenza alle famiglie, anche per le piccole necessità, dichiarano in un comunicato il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore Gianfranco Liccheri. Il compito degli assistenti bagnanti sarà quello di prestare soccorso in caso di necessità, ma anche effettuare azioni di prevenzione dagli incidenti in spiaggia e in mare, sorvegliare gli arenili e gli specchi d'acqua, segnalare ai bagnanti le condizioni meteomarine, attraverso apposite bandiere colorate, rosse per condizioni sfavorevoli e pericolose per la bagnazione, bianca in caso di condizioni favorevoli, blu per segnalare la presenza di meduse. Una nuova iniziativa per coinvolgere i gestori delle mese scolastiche, le famiglie e le istituzioni in interventi di comunicazione e promozione della corretta alimentazione, coniugata alla sostenibilità ambientale ed economica e alla valorizzazione delle produzioni locali, ma anche in esperienze sensoriali di degustazione e laboratori di apprendimento attivo in fattorie didattiche, per la scoperta di sapori e saperi delle tradizioni gastronomiche locali. Partirà dall'Alta Marmilla il percorso di promozione di sane abitudini alimentari nelle mese delle scuole dell'infanzia e primarie. Un progetto nato nel 2017 dalla collaborazione tra ASL-Oristano, la ORE, Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla, col Diretti e Istituto Comprensivo di Ales. Il primo appuntamento dedicato a genitori e insegnanti si terrà martedì 29 maggio alle 15.30 nella sala riunioni dell'Unione dei Comuni Alta Marmilla ad Ales. Venerdì 1 giugno si svolgerà invece la giornata sulla merenda. Nelle scuole primarie dell'infanzia dell'Alta Marmilla i gestori del servizio di ristorazione scolastica somministreranno a tutti i piccoli alunni uno spuntino a base di pane, ricotta e miele, alimenti che coniugano gusto, salute a chilometri zero. Nella stessa giornata gli studenti delle scuole primarie di Ales e Baressa potranno partecipare ai laboratori sul miele e sul formaggio a cura delle fattorie didattiche di Ales e Gonostramazza. È iniziata stamattina l'avventura di Mauro Abate, l'atleta oristanese che punta a entrare nel Guinness dei primati raggiungendo Caponordo in 100 giorni con il triathlon più lungo del mondo, bicicletta, nuoto e corsa. Mauro Abate è un informatico di 30 anni che da mesi si sta preparando per la nuova avventura. Ad assisterlo durante la prova di nuoto nel Mar della Norvegia i genitori con un camper dove potrà ristorarsi, riposare e riscaldarsi. Sarà presente anche una barca d'appoggio. Il comune di Oristano attraverso l'assessorato allo sport ha voluto offrire il patrocino alla sua impresa. L'atleta è partito dalla scalinata di Palazzo degli Scoloppi dove il sindaco Andrea Luzio e il vice sindaco Massimiliano Sanna gli hanno dato gli auguri della città. Da Oristano e Caponordo percorrerà circa 7.500 chilometri, 5.900 in bici, 200 nuoto, 1.400 chilometri di corsa fino al circolo polare artico. Martedì 5 giugno si insiederà la Commissione per la Equità tra i generi e le pari opportunità del comune di Oristano. L'ha convocata per le 18.30 nella sala giunta di Palazzo Campus Colonna il presidente del Consiglio Comunale Antonio Franceschi. Eletta ai giorni scorsi dal Consiglio Comunale la Commissione Municipale dovrà eleggere il presidente e due vicepresidenti. Lunedì 28 maggio alle ore 10 il consultorio familiare di Oristano all'interno dello spazio Mamme ospiterà l'incontro dedicato a tutte le donne in gravidanza sul piano del parto. Questa pratica, ancora poco diffusa in Italia, aiuta a creare un rapporto di collaborazione e fiducia tra la famiglia e il punto nascita. All'iniziativa, coordinata dalla responsabile dei servizi consultoriali del distretto sociosanitario di Oristano Maria Antonietta Grimaldi parteciperanno alcune neumamme che hanno presentato un piano del parto e che ne illustreranno l'applicazione e i benefici. La conferenza sul convento della Beata Vergine del Carmelo di Oristano prevista per domani, sabato 26 maggio, è stata rinviata per la sopraggiunta e indisponibilità del relatore. Il comune di Morgongiuri aderisce e sostiene lo sportello amianto nazionale e da oggi offre al cittadino un'assistenza a 360 gradi in materia di amianto. Il servizio patrocinato dal coordinamento nazionale amianto mette a disposizione degli abitanti, professionisti qualificati, membri di un selezionato comitato scientifico che esprime le competenze delle più grandi associazioni nazionali impegnate nella lotta e nella corretta informazione in materia di amianto. Il 18 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU e Tasi. Per l'anno 2018 il comune di Oristano ha confermato le aliquote IMU e Tasi in vigore dall'anno 2016, fissate con la delibera del Consiglio Comunale del 27.04.2016.